Forza Italia Non cambio casacca, lunga telefonata con Berlusconi Bonus energia al via la campagna informativa di Estra Sconti sui consumi di luce e gas per famiglie in difficoltà Don Luigi Ciotti a Prato per parlare alla città Il sacerdote fondatore di Libra invitato dal Vescovo Agostinelli Una Maxi Bici saluterà il passaggio del Giro d'Italia in Vallata Inaugurata la scultura collocata a Osella Il Prato chiude con un pareggio a San Gimignano, una stagione non esaltante in Serie D Una buona serata dalla nostra redazione Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato La politica in primo piano L'onorevole Giorgio Silli spiega ai microfoni di TV Prato I motivi della clamorosa decisione di abbandonare dopo 20 anni di militanza Il partito Forza Italia Una decisione sofferta, un lutto l'ha definita lo stesso Silli Intervistato dal nostro direttore Gianni Rossi L'ex azzurro ha assicurato che non cambierà casacca Come ha assicurato anche a Berlusconi nel corso di una lunga telefonata tra i due Ascoltiamo quindi un estratto dell'intervista pubblicata integralmente sul nostro sito tvprato.it È una scelta maturata sul lungo termine Non è più casa mia Io sono nato e cresciuto in un partito di centro-destra moderato Che aveva una linea politica chiara da ogni punto di vista e in ogni settore E purtroppo ultimamente io vedo che in alcuni settori, su alcuni argomenti, arranchiamo Forse perché viviamo un momento strano dove a livello locale governiamo con altri partiti di centro-destra Mentre a livello nazionale siamo all'opposizione di un governo che è un ibrido È stata una scelta dolorosissima ed è tuttora un lutto che dovrò elaborare Sono un uomo di centro-destra moderato, continuo a lavorare per la mia città E per i punti che ho promesso in campagna elettorale E lo faccio in una situazione di attesa almeno fino alle prossime elezioni Ma il problema dunque qual è? Forza Italia non ha linea politica o per differenziarsi dalla Lega si è avvicinata pericolosamente al PD? Il problema è politico Il problema è proprio la linea politica che un tempo era chiara I nostri elettori ci riconoscevano proprio per la nostra linea politica Ed oggi non su tutto ma su alcuni argomenti pur di differenziarsi dagli altri partiti di destra Ahimè abbiamo fatto delle dichiarazioni e delle iniziative un po' troppo verso sinistra E ripeto, me ne vado in punta di piedi Quasi in imbarazzo nei confronti delle persone alle quali voglio bene Non voglio arrecare ulteriore danno al partito E quindi come ho detto rilascio queste interviste E poi farò campagna elettorale per il centro-destra per vincere la città Ma da un punto di vista di appartenenza partitica nazionale Non ne voglio parlare almeno per i prossimi mesi Ma l'uscita prima delle elezioni non può comunque creare danno al candidato Spada E al centro-destra unito qua a Prato Beh no, direi assolutamente no Magari potrà travasare dei voti da un partito a un altro Ma sempre all'interno del centro-destra Io sono Giorgio Silli, sono un uomo di centro-destra Per me l'antagonista, il nemico in questa città è il PD E sostengo a spada tratta Daniele Spada in maniera molto convinta Come sto facendo in questi giorni Accompagnandolo da imprenditori piuttosto che da in realtà associative ed altre Un'ultima domanda onorevole Il presidente Berlusconi l'avrà chiamata immagino Il presidente Berlusconi mi ha chiamato Siamo stati a telefono tanto Credo una telefonata molto lunga Di mezz'ora, 40 minuti Gli ho detto in maniera... sono quasi commosso Perché comunque dopo 20 anni io voglio bene al presidente Berlusconi Come a un padre Politicamente, un padre politico senza ombra di dubbio Ho spiegato anche a lui che è una scelta non fatta a cuor leggero Molto sofferta E gli ho promesso che comunque non cambierò casacca Non andrò in un altro partito Sconto nelle bollette della luce del gas per le famiglie in difficoltà Alvia la campagna informativa di Estra Ecco chi ne ha diritto Una riduzione sulle bollette di gas e luce per andare incontro alle famiglie In condizioni di disagio economico è numerose È il bonus energia, strumento attivo da anni ma ancora poco conosciuto Secondo stime nazionali solo il 30% dei potenziali destinatari Usufruisce degli abbattimenti È per ampliare la platea dei beneficiari di queste agevolazioni Che parte dunque la campagna informativa di Estra Obiettivo promuovere la misura del governo Introdotta in collaborazione con i comuni Tra cui quello pratese Nel 2018 i bonus erogati da Estra Sono stati complessivamente quasi 26.000 19.662 bonus gas Per una media famiglia di 95 euro all'anno in bolletta E 6.333 agevolazioni per l'energia elettrica Con una media di 93 euro all'anno Questo bonus attualmente viene utilizzato solo da una platea molto ristretta rispetto al fabbisogno Circa il 30% in Italia Estra sta facendo la sua parte Vuole lanciare questa campagna anche per aiutare i nostri soci indiretti Che sono le amministrazioni comunali Appunto per promuovere la conoscenza di questa opportunità Per chi versa in condizioni diciamo di disagio energetico Possono accedere al bonus sociale per disagio economico Tutte le famiglie che abbiano un ISEE non superiore a 8.107,5 euro E non superiore a 20.000 euro Per i nuclei con più di tre figli a carico Il bonus sociale gas ed elettrico sono accumulabili È sufficiente invece una certificazione ASLE Non l'ISEE in presenza di un malato grave Che necessita dell'utilizzo in casa di apparecchiature elettromedicali Con notevole dispendio di energia Per fare domanda occorre compilare appositi moduli Disponibili presso i comuni o sui siti internet di ANCI E dell'autorità di regolazione per energia a reti e ambiente La documentazione deve essere riconsegnata al proprio comune o ai CAF Possono aiutare anche nella compilazione della documentazione Anche le società dei consumatori L'associazione dei consumatori A cui ovviamente abbiamo chiesto di darci una mano nella diffusione Per far conoscere questa modulistia E ovviamente anche per poi riempirla La documentazione comunque deve essere depositata Poi presso i nostri servizi sociali Cioè presso il comune Che si adopererà appunto per far partire il cosiddetto bonus energia Artigiani, insegnanti, professionisti La lista civica importante, amare Montemurlo Unisce uomini e donne che hanno voglia di impegnarsi per la nostra città Il nome stesso della lista civica rappresenta un po' Il motivo per cui nasce Sono persone che sono già impegnate nella comunità montemurlese In associazioni o comunque in altro modo Sono parte attiva di quella che è la vita cittadina E hanno deciso di mettersi in gioco Di partecipare a queste amministrative Mettendo del loro per impegnarsi E per mettersi a disposizione della cittadinanza Per proseguire quello che è il buon lavoro Di questi ultimi anni dell'amministrazione uscente Chiaramente candidati civici Quindi non connotati politicamente Ma che hanno modo e avranno sicuramente la possibilità Di poter portare avanti insieme al resto della coalizione Idee e progetti per migliorare e continuare a far crescere Montemurlo Intanto il candidato sindaco di Montemurlo del centro-destra Matteo Mazzanti Che sabato scorso ha incontrato il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del suo comizio a Prato Lancia la sua proposta per la sgambatura a cani in via Puccini Nella frazione di Oste Sempre più famiglie possiedono un animale domestico È giusto che nel comune ci siano spazi adeguati e funzionali Afferma Mazzanti Che punta il dito contro l'assessore ai lavori pubblici uscente E candidato sindaco del centro-sinistra Simone Calamai Si è accorto soltanto adesso Che ad Oste è necessario attrezzare un'area sgambatura adeguata Alle esigenze della popolazione Dopo aver fatto finta di niente per anni Affermato Mazzanti E adesso passiamo la parola a Giulia Ghizzani Per conoscere gli appuntamenti della campagna elettorale In programma per domani Sì, grazie della linea Diamo uno sguardo ad alcuni appuntamenti Che ci sono stati segnalati Nella nostra agenda politica Cominciando da domani alle ore 18 Nella sede del Comitato elettorale di Prato in Comune In Largo Carducci 22 Marilena Grassadonia Capolista della lista per le europee della sinistra Insieme alle candidate consigliere di Prato in Comune Nora Toccafondi, Gabriella Radu e Chiara Santi Si confronteranno sul tema diritti, donne e famiglie Il Partito Democratico di Vaiano Organizza un incontro sempre per domani alle ore 18 Presso i locali della Casa del Popolo All'appuntamento parteciperà la giovane candidata al Consiglio Europeo Alessandra Nardini Tema dell'incontro è i giovani e l'Europa E saranno presenti Marco Viagioni Segretario dei Giovani Democratici di Prato E candidato al Consiglio Comunale di Prato E Marco Saccardi Membro dell'Assemblea Nazionale del PD E candidato al Consiglio Comunale di Vernio E chiudiamo infine spostandoci a Montemurlo Dove sempre domani alla pizzeria La Musica di Via Scarpettini Ma alle ore 20 si terrà una cena con il candidato a sindaco del centro-sinistra Simone Calamai E voltiamo pagina Mercoledì 8 maggio Don Luigi Ciotti sarà a Prato Fondatore del gruppo Abele Per aiutare le vittime delle dipendenze E dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie Don Ciotti è stato invitato dal vescovo Franco Agostinelli Per parlare alla città Il sacerdote ed attivista bellunese a 73 anni Vive sotto protezione da quasi 30 A causa della sua quotidiana lotta contro le mafie Per la quale ha subito anche alcuni attentati La mattina dell'8 maggio dalle 10 alle 13 Don Ciotti sarà all'Istituto Datini per un dialogo con gli studenti Trascorrerà poi il pomeriggio alla Villa del Palco Ospite della comunità dei ricostruttori nella preghiera Quindi alle 21 nella chiesa di San Francesco Terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza E si è celebrata ieri pomeriggio La messa in ricordo delle vittime morte Negli attentati di Pasqua in Sri Lanka La piccola comunità cingalese Residente a Prato Si è ritrovata ieri in cattedrale Per pregare e per dire no alla violenza La funzione è stata preseduta dal vicario episcopale Per i migranti Monsignor Santino Brunetti Che ascoltiamo in questa intervista Rilasciata prima della messa Oggi quindi Ocesi vogliamo unirci alla comunità di Sri Lanka Cattolica che si riunisce normalmente nella chiesa di San Clemente a Prato Per essere partecipi del dolore che ha colpito quella chiesa Non solo quella chiesa Ha colpito il dolore della chiesa intera Perché noi non siamo frazionati Siamo un'unica chiesa E quello che succede in una particolare parte del mondo Succede appunto nella chiesa cattolica Che è sparsa su tutta la terra Per la chiesa essere perseguitata è normale Dai tempi di Gesù Gesù ha detto ai suoi discepoli Nessun discepolo è superiore al suo maestro Ma perseguitano anche voi E questo per noi è normale Oltretutto sappiamo con certezza Che il sangue dei martiri per noi è Fecondità di una chiesa che si sveglia Che ancora cammina Che è fedele al Signore E non teme le minacce degli uomini Gli uomini scomparono dalla terra con le loro idee Anche quelli che hanno adorato i miti Sono scomparsi loro E scompariranno ancora Questo noi vogliamo invece Questo ricordo di oggi Esaltare il sangue dei martiri Esaltare la libertà che abbiamo in Cristo Di essere noi stessi di fronte al mondo E passiamo adesso alla cronaca Una 39enne residente a Vaiano È stata denunciata per i reati Di minacce e dati persecutori Nei confronti di un'altra donna Che era stata bersagliata di telefonate Di messaggi con minacce anche di morte All'indagata cittadina albanese Come la vittima I carabinieri hanno notificato Anche un'ordinanza di divieto Di avvicinamento alla persona offesa La misura cautelare è scaturita A seguito delle indagini dei militari dell'arma Che hanno ricostruito i comportamenti persecutori E hanno preso atto dello stato di ansia E di angoscia procurati alla vittima Che era costantemente costretta A stare attenta ogni qualvolta Usciva di casa Per paura riguardo alla propria incolumità Il provvedimento del giudice Prescritta alla 39enne Di mantenersi lontano dai luoghi Frequentati dalla persona offesa E di non comunicare con la stessa Attraverso qualsiasi mezzo Le biciclette rimesse a nuovo Dagli studenti dell'Istituto Marconi Sono ora in vendita a scopo benefico Il ricavato del progetto Sarà infatti devoluto All'emissione dell'operazione Mato Grosso in America Latina Scopriamone di più Si è concluso il progetto Bici 2019 Dell'Istituto Professionale Marconi Si tratta dei laboratori Di manutenzione biciclette Della durata di 6 mesi Nato con l'obiettivo Di fornire ai ragazzi Un'importante opportunità Per acquisire competenze tecniche Da spendere poi nel mondo del lavoro E nella vita quotidiana di tutti i giorni 44 gli studenti che hanno partecipato Supportati da 7 docenti E due tecnici professionisti esterni Abbiamo sistemato più di 250 biciclette Una parte sono già state vendute A Officina Giovani Per l'operazione Mato Grosso E quindi quel ricavato Andrà a costruire una scuola in Perù E invece quelle che vedete oggi In Aula Magna della scuola Sono quelle che ci sono arrivate dal comune Che abbiamo risistemato E appunto messe a disposizione Per chi le vuole prendere E il progetto ha coinvolto più o meno Una quarantina di ragazzi Suddivisi in 5 gruppi diversi E si alternavano E i ragazzi hanno imparato A lavorare sulle biciclette Sia dall'arrivo fino alla fase finale Insieme anche con l'aiuto dei tecnici Marco Vannucchi e Andrea Lai Le biciclette resteranno esposte domani Dalle 9 alle 14 Nell'aula magna dell'istituto Dove potranno essere acquistate Con un piccolo contributo volontario Che sarà utilizzato per il finanziamento Del progetto il prossimo anno E per aiutare la costruzione Di un'importante scuola in Perù Il progetto Bici del scuola Marconi Ha contribuito a finalizzare Delle opere che si stanno portando avanti Nella baraccopoli di Cimbote È da 2014 che l'operazione Mato Grosso Sta realizzando diverse strutture Siamo partiti con asili nido Con scuole professionali E negli ultimi due anni Attraverso il contributo di molti volontari E anche in questo caso Del progetto Bici della scuola Marconi Realizzare la scuola primaria E la scuola secondaria Sempre nella baraccopoli di Cimbote In totale saranno 1200 ragazzi Che frequenteranno questa scuola Una maxi bicicletta saluterà il passaggio Del Giro d'Italia Ausella la scultura è stata realizzata Dal fabbro e comico Massimo Galligani Allora questa qui è una scultura Di circa 340 kg di 5 metri e 40 Per 3 e 70 di altezza Ed è la bicicletta Una maxi bici in ferro Verniciata di rosa Per salutare la carovana del Giro d'Italia Che domenica prossima Nella seconda tappa Da Bologna a Fucecchio Attraverserà la Val Bisenzio E transiterà anche a Prato La scultura è stata realizzata Dal fabbro e comico Usellese Massimiliano Galligani Ed è stata collocata In prossimità della rotatoria Che da Ausella porta a Migliana Proprio da qui passeranno i ciclisti Nella loro discesa verso Prato L'idea è venuta ai fratelli Tommaso e Rodolfo Vaiani Grandi appassionati di ciclismo Che hanno commissionato l'opera a Galligani Perché io ho corso 7 anni Ho fatto il ciclismo per 7 anni E i primi anni li ho corsi Nel GS Vaiano Dove i fratelli Vaiani Erano direttori sportivi Presidenti, insomma erano coloro Che avevano fondato il GS Vaiano Io e Rodolfo abbiamo avuto l'idea Di fare questo monumento al ciclismo In onore del passaggio di Giro d'Italia E inoltre siamo nel paese di Fiorenzo Magni E quindi ci è parso opportuno Dare lustro a questo grande campione Di ciclismo che nessuno magari si ricorda In questi momenti Massimiliano Galligani Figlio di Mastro Ferraio Si è messo all'opera nell'officina di Carmignanello Per realizzare e saldare i singoli componenti Sono state necessarie 170 ore di lavoro Nell'arco di due mesi Il look della Maxi Bici Che dovrebbe essere la più grande d'Italia È stato studiato nei dettagli In modo da dare il senso del movimento Senza elementi che avrebbero impresso staticità Come ad esempio i raggi delle ruote La Maxi Bici di Usella è un omaggio a tutti i campioni di ciclismo del passato Che hanno varcato la vallata Ma anche ai semplici appassionati delle due ruote Che percorrono la 325 Era una cosa che c'era in ponte da due anni Non si sapeva se farlo o meno Poi è arrivata l'occasione del Giro d'Italia E abbiamo colto la palla al balzo Per fare questa scultura gigantesca Che si spera poi rimarrà protratta nel tempo Rimarrà per sempre qui Perché a meno poi le persone che passeranno Lungo la statale 325 Che da Prato va a Bologna A meno quando vedranno questa scultura Magari sorrideranno Un po' di gioia la dovrebbe trasmettere Ecco, questo è Da stasera la rubrica di attualità Intorno alle 9 cambia veste Per tre settimane Infatti da lunedì al venerdì La trasmissione in onda al termine Del nostro telegiornale della sera Sarà dedicata alle elezioni amministrative Del 26 maggio La formula è quella delle tradizionali tribune elettorali In studio si alterneranno le liste 16 in tutto Che prenderanno parte alla prossima tornata elettorale Per l'elezione del sindaco di Prato E del consiglio comunale Cominciamo questa sera con le liste civiche Biffoni 19 E Daniele Spada sindaco Vediamo quindi un'anticipazione della trasmissione Condotta questa sera da Giulia Ghizzani Votare questa lista vuol dire continuare Dare ancora un 5 anni di progetti Che non sono stati finiti Che devono essere migliorati Che si può ancora continuare In questa città che può essere migliorata E' una città viva Una città forte E' una città che ha bisogno di Matteo Biffoni Per essere guidata 12 secondi ancora a sua disposizione Va bene così Una scelta di cambiamento In discontinuità a questi anni A questi 5 anni di giunta a Biffoni A questa serie di programmi e di progetti Che non ci hanno portato da nessuna parte Un voto volto alla concretezza Ai piccoli progetti Alla serietà Al buon senso Noi come sta dicendo Daniele Vogliamo riportare il sorriso a Prato Abbiamo le idee per farlo Abbiamo le competenze per farlo E abbiamo anche la forza di volontà per farlo Una serata musicale per ricordare Ranieri Ghiar di storico giornalista montemurlese Scomparso lo scorso gennaio L'iniziativa a scopo benefico si è tenuta Nella sala parrocchiale di Fornacelle Vediamo Una serata per ricordare Ranieri Ghiar di Scomparso lo scorso gennaio Firma storica del quotidiano La Nazione Collaboratore di TV Prato A cavallo tra gli anni 80 e 90 E così in tanti sabato si sono ritrovati nel salone della parrocchia di Fornacelle a Montemurlo Per partecipare ad Accordi e Ricordi Un pensiero per l'amico Ranieri Una serata organizzata dal coro Black & White Dal gruppo Musica Le Pratese E dal canile Rifugio Proprio per ricordare con il canto e la musica il loro amico Tra le tante passioni coltivate da Ghiar di infatti Oltre a quella del giornalismo sportivo Anche quella della musica e del canto Che praticava proprio con i gruppi Che sabato sono stati i protagonisti dell'appuntamento Come ho fatto lo so Una ragione vera non c'è Era bella però Dunque dove la tua è più blu Niente di più Durante la serata a cui erano presenti la moglie e i figli Sono intervenuti colleghi e conoscenti per raccontare episodi e aneddoti A testimonianza di chi era Ranieri All'uscita sono stati raccolti poi contributi volontari In favore del canile Rifugio A memoria del fatto che Ranieri era anche stato per alcuni anni Coordinatore del VUF per la provincia di Prato Torno all'appuntamento con la settimana della buona salute Tutto è l'iniziativa promossa da FIPAC Confesercenti insieme alla pubblica assistenza all'avvenire di Prato L'appuntamento è per l'8 maggio dalle 15 alle 18 e per il 10 maggio dalle 9 alle 12 nei locali di via San Jacopo Per l'occasione i pensionati di Confesercenti avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite per la misurazione della pressione e della glicemia Due giornate di controlli medici gratuiti per i pensionati di Confesercenti Torno infatti l'appuntamento con la settimana della buona salute L'iniziativa organizzata dal sindacato dei pensionati di Confesercenti insieme alla pubblica assistenza all'avvenire Prato L'appuntamento è per mercoledì 8 maggio dalle 15 alle 18 e venerdì 10 maggio dalle 9 alle 12 Per l'occasione i pensionati di Confesercenti avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite presso gli ambulatori della pubblica assistenza all'avvenire Prato di via San Jacopo Per la misurazione della pressione e della glicemia e per l'elettrocardiogramma Per partecipare non occorre prenotarsi, basta presentarsi in ambulatorio Sono due giornate della salute e qui saranno fatti presso la pubblica assistenza dal dottor Andrea Meoni I giorni di 8 maggio dalle 15 alle 18 e il 10 maggio dalle 9 alle 12 Ed è un servizio ai nostri associati sulla misurazione della pressione, glicemia e elettrocardiogramma In quanto noi come pensionati siamo diversamente giovani quindi abbiamo le malattie di gioventù diversamente E quindi questi controlli abbiamo bisogno di farli Un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutte le province italiane nel periodo dal 6 al 12 maggio E che guarda il tema della salute come al benessere della persona nella sua totalità Un appuntamento da sempre sostenuto dalla pubblica assistenza all'avvenire Prato Come sottolineato dal presidente Livio Benelli Che ha ribadito come l'iniziativa sia rivolta ad una parte fragile della società Ed è per questo che riscuote la dovuta attenzione della pubblica assistenza Da sempre in prima linea quando c'è da sostenere chi ha maggior necessità E passiamo adesso allo sport, al calcio Il Prato chiude il campionato di Serie D con un pareggio in trasferta Stagione non esaltante per i biancazzurri che si piazzano al nono posto Ce ne parla Massimiliano Masi Decimo pareggio stagionale per il Prato che impatta 1 a 1 sul campo del San Gimignano Condannando la matricola senese alla retrocessione diretta in eccellenza La squadra bianco-azzurra chiude una stagione senza cuti Al nono posto in classifica a 20 punti di distacco dalla pianese vincitrice del campionato Primo tempo alla Camomilla Il Prato imbottito di giovani tiene bene con il San Gimignano Che con Calamassi prova a spaventare Fontanelli senza fortuna Nel secondo tempo la partita si accende Il San Gimignano aumenta i giri al motore Alla ricerca della vittoria che potrebbe dare i play-out Calamassi è sempre pericoloso Mentre Shannamè per compensare la rima è miracoloso nel salvataggio Il Prato replica con il colpo di testa di Bazzoffia alto sopra la traversa Protesta del San Gimignano per la rete annullata a Calamassi per fuorigioco I tifosi locali si disperano Il Prato punge in contropiede con Quassi che lancia Rozi Salvataggio di Tici e rete di Quassi che gela San Gimignano È 1-0 per il Prato I senesi cercano l'immediata replica Cicali dal limite alla mira difettosa Mentre Veratti riscalda i guantoni a Fontanelli in attento tuffo Il pareggio del San Gimignano all'ottantasettesmo Con il tocco di giustezza del difensore Tici È 1-1 Finale di partita al Cardiopalma Il Prato si difende Il San Gimignano con Veratti si rivora la rete del sorpasso e della speranza Finisce 1-1 Il San Gimignano retrocede in eccellenza Il Prato chiude la sua stagione in Serie D senza infamia e senza lode Il bilancio della stagione del Prato verrà tracciato questa sera Il gioco è fatto in onda alle 21.20 nel corso della diretta Spazio come sempre anche ai campionati di calcio dilettanti Per saperne di più passiamo la parola a Massimiliano Masi Buonasera a tutti 21.20 rigorosamente in diretta con il gioco è fatto Parleremo di calcio dal campionato di Serie D fino alla prima categoria La serata dei verdetti È terminata la regular season per quanto riguarda la Serie D Con la pianese che brinda la promozione in Serie C Faremo un bilancio sulla stagione in chiaroscuro del Prato E cominceremo a guardare anche al futuro con notizie in esclusiva Riguardo appunto la formazione bianco-azzurra In eccellenza invece i playoff con la Fortes Juventus Che vola in finalissima con il Poggi Bonsi Si salva il Signa che riesce proprio all'ultimo tuffo A superare la Castiglionese Anche per quanto riguarda il campionato di eccellenza Attenzione i primi movimenti di mercato in vista della prossima stagione Campionato di promozione Ultima giornata senza sorprese Con la lampo che vola quindi al finale playoff Mentre retrocede il Jolly Montemurlo Terza retrocessione consecutiva per la formazione bianco-rossa Ed infine la prima categoria con i playoff Che saranno davvero incandescenti Avremo il derby tra il Tavola e il Lanciotto Mentre la Vaianese incrocerà i guantoni con il Malmantile I playoff saranno a chiare tinte pratesi Avremo un CF 2001 galcianese che è davvero intrigante Potete interagire con noi attraverso gli sms Oppure l'applicazione whatsapp Vi ricordo il numero è il 331-188-676 21 e 20 rigorosamente in diretta Per veramente un finale di stagione scoppiettante Dei campionati dilettanti A più tardi non cambiate canale Grazie Massimiliano A più tardi noi adesso facciamo una breve pausa Ma rimanete con noi Torniamo tra poco con l'agenda e il meteo Ben trovati ed è il momento dell'agenda Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma A Prato e dintorni Domani alle 16 nei locali della parrocchia Di Santa Maria della Pietà Personaggi celebri Michelangelo Leonardo Raffaello Conferenza a cura della Libera Università Di promozione culturale Relatrice Anna Maria Samorè Seri Sempre alle 16 al Polo Universitario Città di Prato Ritratti di jazz Riscoprire Sacimo La rivoluzione musicale di Louis Armstrong Conferenza a cura dell'Università Del Tempo Libero e Liana Monarca Relatore Stefano Zelli E alle 21.30 al Cinema Terminale Nell'ambito della messa in scena Dello spettacolo Scene da Faust In programma dall'11 maggio Al Teatro Metastasio Verrà proiettato il film Faust Una pellicola del 1926 Del regista tedesco Mucnau Un progetto di Teatro Metastasio E cineclub Mabuse E passiamo adesso alle previsioni del tempo Come sempre a cura del Consorzio Lamma Ci seguono da casa La situazione sinottica prevista Per la giornata di domani Lo vedete Prevede la rimonta di un campo di alta pressione A garanzia di un tempo più stabile Condizioni che tuttavia non sono destinate A durare a lungo Lo vedete un pochino più a ovest Una profonda depressione atlantica Tenderà a transitare A partire dalla giornata di mercoledì Anche sulla nostra regione Determinando un nuovo peggioramento Delle condizioni meteo Per domani Come vi dicevo Inizialmente condizioni di stabilità Con un cielo prevalentemente sereno Poi una debole ventilazione occidentale Fuori dall'arrivo di nubi Prevalentemente alte e stratificate Che tenderanno a rendere il cielo nuvoloso Nelle ore pomeridiane Temperature al mattino In ulteriore calo Attenzione alle possibili locali gelati Nei fondovalle più chiusi della nostra regione Le massime si attesteranno Intorno ai 15-18 gradi Valore che tenderanno quindi A rilenarsi a quelli tipici del periodo Veniamo a vedere quello che ci attende Poi per la giornata di mercoledì Graduale peggioramento Lo vedete Nubi via via più consistenti e compatte Tenderanno a interessare la nostra regione Soprattutto le zone nord-occidentali Qualche debole pioggia nel pomeriggio Sulla provincia di Massa Carrari In un contesto di ventilazione ancora debole occidentale Con temperature minime Insensibili aumento E massime stazionari Con questo è tutto Vi auguro una buona serata E questa era l'ultima notizia Il telegiornale termina qui Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prate Per domani alle 13.45 con il Tg del giorno Ma rimanete con noi Vi lasciamo intorno alle 9 speciale elezioni amministrative Spazio questa sera alle liste civiche di Foni 19 Daniele Spada, sindaco A seguire la trasmissione Il gioco è fatto Grazie per averci seguito e arrivederci Grazie per averci seguito e arrivederci